Sì, io sono Simone, da 21 anni sono della provincia di Turin, la lingua che parla siamo piemontese. C'è una lingua che si parla dal nord-oest dell'Italia, una regione che siamo piemonti. E troverete che è una lingua che sia differente dall'italiano, come bene che in Italia si preferisce meglio il dialetto, perché come sai bene, che è una lingua che è differente da un'altra, siamo il dialetto. Ebbene, in pratica, l'uomo ha deciso che in Italia le cose non capiscono. Allora, si decide di fare confusione insieme alle parole, perché la gente capisce più niente, perché la gente può essere ottenuto l'unico che si vuole ottenere, perché l'uomo ha chiesto tutte le lingue, tutta questa varietà, che l'estate italiana è fina troppo, e dunque l'uomo ne manca tutte queste città, che non c'è una città, ha la sua maniera di parlare. Allora, io ho deciso di prenderla lì e fare la differenza. Allora, io ho parlato molto in italiano. Mi stavo a capire lì, con la prima cintura, la seconda cintura, in Turin, e per dire che, se certo d'antica, abbiamo proprio mal fatto parlare in Piemonteis, perché c'è poca gente che è costumato a sentire parlare in Piemonteis in fiole. E anche se dicono che l'uomo ha la propria difficoltà a capirlo, cioè la propria difficoltà a capire l'uomo che ci si chiama a dire. E se ti prendi fuori la parola giusta in Piemonteis, e capisci niente, allora devi tirare fuori la parola giusta in italiano, al posto della parola Piemonteis, parei, ti lascia una frase più di speranza che ti capisci, una frase più di speranza che capirà le tue esigenze di parlare Piemonteis, e se non è una frase più di... In tutti i casi, l'uomo ha usato a dire che, anche in nord-oeste dell'Italia, le lingue lucai si parla quasi più niente, mentre se uno va da altri posti dell'Italia, le lingue lucai magari sono una frase più resistente, ma in tutti i casi sono anche un cammino esperto, soprattutto perché ha smesso tantissimo con l'italiano che è la città che si inventa l'unica l'unica di varietà dell'italiano. A dire anche che, si potrebbe fare troppo belle, troppo giuste, ma in ventre sarebbe da manco di un po' di sostegno. Il sostegno non arriva, non arriva perché nessuno vuole carino. E sempre che cosa è più bella, più giusta e più buona da fare, a loro salvare la varietà linguistica dell'Italia. E poi la maggior parte delle persone dice ma sì, parliamo in italiano, parliamo in inglese, parliamo in cinese, e poi magari se proprio non interessa, poteva tirare fuori l'accento, l'accento, no? La cadenza. Il gatto, cioè, il gatto più montato, che era il carattere del popolo più montato, la gente che aveva bella e si, che aveva a sua maniera di fare, poteva portare la vita in tutte le comedie, poteva portare la vita. ma non è la vita reale, d'accordo? Perché è una roba vera, è frusta, è più fredda, è pieno di mancare, è tenere la vita, no? E poi, altre cose che c'è da dire, è che abbiamo inteso in realtà, non è una lingua di bale, in quel senso che c'è una scrittura, c'è una tradizione letterale, all'era, alla via, già, quale, quittrat, che sono tipiche, le lingue, che si trattano, che sono, che si trattano, 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 anche, che si trattano, e poi, che si trattano, che si trattano, beh, ehm, via che, dovevo mai perdere, il spirito, dovevo parlare, il senso, e, e, perché, e, beh, l'unica capita, e l'hai pensato più a parte del progetto del Wikitone giusto per farvi ascoltare anche questa lingua che magari non è in comune da sentire. E buono. C'era io e buon giorno, stai qui e parli questa lingua.